Ciao e bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la maglia di casa dei Los Angeles Football Club per la stagione 22-23, la maglia di Chiellini, in edizione FAN. Direttamente dalla città degli angeli, ispirata dallo style art deco della celebre metropoli calo-for-californiana, questa maglia Adidas Los Angeles Football Club offre un look davvero inconfondibile. La maglia home dell'Adidas Los Angeles Football Club 2022 è prevalentemente nera con loghi dorati e strisce Adidas. Il logo dell'Adidas e lo stema del club sono entrambi posizionati al centro del petto, con Adidas in alto. La caratteristica principale della maglia è un motivo art deco, su misura, che appare sul davanti e sulle maniche. La struttura in morbo e tessuto anti-amilità ario-ready assicura il massimo comfort. Meravigliosa! Questa maglia, secondo me, è veramente molto bella, ben riuscita, con questi dettagli color oro veramente, veramente belli. Peraltro, nella mia classifica, questa prende 5 stelle il massimo e, se vedete il costo qui sopra, veramente molto basso, quindi un vero affare. Come detto, la maglia di Piellini, uno dei miei difensori italiani preferiti, che adesso, purtroppo, fino a carriera, è andato a giocare in America. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e dei link per avere dei coupon e per poter sostenere il canale per poter fare altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ora vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale. Vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Ciao, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Ciao! Grazie a tutti.